Ciao, io sono Jimmy Baratta e faccio parte del progetto L'improvvisazione non si improvvisa dei cantieri di arte pubblica del comune di Pordenone. Questo è il mio gruppo di lavoro. Abbiamo iniziato oggi, oggi è il 13 febbraio del 2013. Siamo qui alla mia parrocchia, la parrocchia di San Francesco, che come vedete nel volantino che avete a disposizione, o comunque che avrete a disposizione, è il punto di partenza del mio progetto. Ci saranno altre tappe, perché col mio gruppo faremo delle incursioni di improvvisazione teatrale in luoghi, date e orari che vi verranno comunicati, che questa sera decideremo. Vedete, siamo in pausa, non è che questo è il nostro metodo di lavoro. Intanto saluto tutti quanti voi, saluto Angela che sta facendo le riprese Vi aspetto al prossimo appuntamento. Ciao e ci vediamo!